Ciao, sono Luca Manelli e in questo breve video voglio parlarti dello strumento testa muro, ma più nello specifico della testa muro che si chiama testa girata, che ti permette di andare a definire delle finiture per quanto riguarda appunto la testa del muro come quelle che stai vedendo all'interno della finestra di pianta. Per inserire una testa muro la prima cosa che devi fare è andare a selezionare lo strumento all'interno della paletta degli strumenti nel pannello ulteriore. Se vado ad aprire la finestra settaggi dello strumento testa muro puoi vedere che le teste muro presenti sono all'interno della libreria di Archicad, sono sei tipologie di testa muro, in questo video vado a concentrarmi sulla testa girata. Una volta che hai selezionato la testa girata, nella parte di destra hai la possibilità di andare a definire dei parametri per personalizzare il comportamento della testa muro. Puoi vedere che attivo checkbox adatta all'altezza del muro, questo permette alla testa muro di adattarsi automaticamente al muro in cui viene posizionata e a tutte le variazioni che potrà avere questo muro per quanto riguarda l'altezza. Poi nella realtà la testa muro si muove assieme al muro, per cui viene agganciata automaticamente. Nei parametri che hai in impostazioni personali hai la possibilità di rappresentare in 3D la testa muro, cosa estremamente comoda, hai la possibilità di invertire il rivestimento e puoi scegliere quanti strati devi girare. Nel nostro caso andremo a girare uno strato solo, confermo con ok e vado a inserire la testa muro in questo punto. Faccio un click dopo aver posizionato il cursore su uno spigolo del muro e automaticamente puoi vedere che la testa muro viene posizionata. Puoi andarla a selezionare per andarla a editare successivamente. Proviamo a inserire la testa muro su un muro con più strati. Puoi vedere che dopo averla inserita abbiamo uno strato che è quello interno che gira in maniera tale da chiudere la testa del muro. Se vado a selezionare e apro la finestra settaggi posso andare a invertire il rivestimento da girare. Questo permette ora di far girare l'intonaco esterno sulla testa del muro. Posso decidere anche di andare a girare più di uno strato. Nel nostro caso l'ho impostato ora due strati e vediamo come si comporta. Le stesse operazioni che stiamo facendo le vediamo poi anche all'interno della finestra 3D. Ora se non voglio che questo strato arriva fino a questa superficie ho la possibilità sempre agendo all'interno della testa muro di andare a estendere lo strato 1 sulla faccia interna. Questo significa che andrò sia a girare gli strati ma lo strato interno andrà a bloccare gli strati che girano. Abbiamo la stessa caratteristica anche all'interno della finestra 3D. Come ti dicevo se vai a selezionare poi il muro e vai ad effettuare magari delle modifiche in questo caso vado ad allungare il muro la testa muro si andrà ad adattare sempre alla muratura per cui si muoverà in base alle modifiche che andrà a fare al muro.